no no ragazzi no non ci credo non ci che no ragazzo l'ho fatta apposta ragazzi non l'ho ciao amici di instagram salver siamo per fare ciò amici di instagram salver siamo per fare ciò amici di instagram salver siamo ciò amici di il caso del money 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 gialla gialla io gialla gialla cin cin bling bling so che gialla sick from the money and the fucking song gialla cin cin bling bling can't stop it e sic che gialla gialla che la sei so stocke ricky ma lei non può ma lei non può farlo lei non può farlo comincio ad avere una certa età richi comincio ad avere i primi mi fa saltare il cuore occhio questo è difficile ringrazio tranquilli ma tornissimo eccolo pensi che non era tanto a culo questa qua l'hai presa pure bene l'hai presa infatti non ci sperava detto questo dove cazzo va bravissima mamma mia che va a godere mi fa emozionare ma non ha soldi ammina partita risolvi dal tuo amico napoletano ammina piastra no 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 troppo forte ragazzi no 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 vabbè mondo fa come l'ho fatto qui scopo uno qua alla mia sinistra preso preso che gli stai combinando ma capin cazzo ragazzi no come hacker che si tornò a sito giù che sono pulito no 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 è pulito potremmo avercela fatta no 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 I say without the fuel I say without the fuel no 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 non mi importa niente se piangi potrebbe potrebbe lui supera netto il portiere però in questo caso pop non è uscito però è realistico il tiro e quello che viene prima pure è fatto molto bene mezzo c'è stavo sai o sai che sta carta del baggio almeno in amico le sembra devastante non no 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 Grazie a tutti